Un saluto dal Tg della Mobilità. Sono in dirittura di arrivo gli interventi sulla nuova pista ciclabile tra Porta Ardiatina e Via Laurentina lungo la Colombo. Al momento i tecnici del Dipartimento Lavori Pubblici stanno completando la pavimentazione e la segnaletica di Via Palos, a poca distanza dagli archi di Porta Ardiatina. Il progetto è frutta di una scelta condivisa nell'ambito di Roma decide. E ai parioli smottamento e chiusure in Via Archimede. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la linea 52, giunta in via di San Valentino, prosegue per la stessa strada, poi normale itinerario. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.